Mascaliora Luigi Messina spinge per portare in Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2016. La Giunta vuole ora chiudere al più presto questa pratica che in questo 2017 ha rappresentato una spina nel fianco. Così come in questa settimana che volge al termine ha rappresentato una spina nel fianco il problema idrico a Carrabba che è stato al centro dell'ultima seduta di Consiglio Comunale con i duri attacchi rivolti all'amministrazione da parte di Emanuele Nigri e Carmelo Caltabiano. Nonostante la risoluzione del problema, la tensione, specie nelle frazioni, resta alta con l'opposizione pronta a nuovi attacchi. Dopo la sosta di agosto si ripartirà con l'attività consigliare. Dovrebbe tenersi l'attività ispettiva così come previsto dall'ultimo ordine del giorno e a settembre dovrebbe essere appunto il momento dell'agognato bilancio. Grazie. 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 Grazie.